Ecco la mia bella che dorme, la sveglierò con un bacio. Bella. E' bella. Dormire è una favola con il conforto dei materassi Ikea. Fino al 3 novembre, approfitta dello sconto del 20% in negozio Ikea.it. Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Giovane, chiamate il numero 091 30 27 12. Per la vostra pubblicità su Radio Margherita.it. Scriveremo ancora a pensare di cadere insieme. Ma è vero, siamo fuori per il calolo. Riusciremo a respirare nel diluvio universale. Amore mio, ogni volta è facile scappare via. L'amore a volte è una bugia. Comunque vado e resto tu. Amore mio, ti aspetto sempre, mai un'attesa è stata vana. Ho cambiato i piani per te. Succede per colpa di un raggio di luna. Ho cambiato i piani per te. E' quello che capita quando si ama. Ho cambiato i piani, ho cambiato i piani per te. Senti le mie paure, quelle che non hai. Ho cambiato i piani per te. E passa sopra il cuore.